Quando vedo la patia io metto dal re d'amore La pagina è passata a me e io ne vado a culo La pagina è passata a me e io ne vado a culo La pagina è passata a me e io ne vado a culo La pagina è passata a me e io ne vado a culo La pagina è passata a me La pagina è passata a me e io ne vado a culo La pagina è passata a me e io ne vado a culo ah pensate la foto la faccio con la rica No, no, no. Non mi bacio. Non mi bacio. Ah! Non mi bacio. Forse è massimo. Forse è massimo. Ah, ciao. No, no, è benissimo. Per me che non so, ma la Madonna mi può aiutare. È una parte. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, che video è di qua ammolato, ci sono proprio bene. Lo dico di ammolato, ci sono proprio bene. Lo dico di ammolato, ci sono proprio bene, lo più ero. Ma da qua. Ci sono bene quei video. Perché poi il bordo con i video... ...e poi il bordo. No, ma non è pure la luna del vento. No, ma non è vero. No, ma non è vero che si è. No, ma non è vero. Ciao a tutti. Ehi, ehi, ehi. Ma rientro. andate alla piazza e poi faccia troppo freddo e la nera l'ha visto in settimana e l'ho mandato i saluti infatti mi faceva ben già e dice sono vaccino come sono entrando? ah tu sei? è veramente un cazzo qua no è stata gentile perché non chiese un libro che non si trova e si è adoperata per trovare e non si è preso manco un euro è stata gran signora gran signora eh? sì amente si è assoluta ok? Ho ho!